vento fortissimo fine ottobre a Rovigo finita la fiera vola via tutto vola via tutto vento veramente potente i ragazzi qui del mercato li vola via la merce un disastro un disastro un disastro guardate vola via tutto un vento incredibile un vento incredibile un vento incredibile oggi martedì 30 ottobre se non sbaglio è il 30 non mi ricordo più a volte capita è vento potente vento potente oggi a Rovigo 12 e 30 siamo qui vicino alle poste c'è un vento pazzesco